Per alcune persone è l'inizio della giornata. E per altre è ora di andare a dormire. Buonanotte, Megan. Sogni d'oro. Cosa intendi con sogni? Devo completare questa missione. Andiamo, non deludermi, amico. Il tempo vola quando stai giocando al tuo gioco preferito. Megan ha passato l'intera notte alla console. Che bella nottata di sonno. Megan, non sei ancora andata a letto? È ora di fare un po' di esercizio. Di nuovo Lori e le sue cose da cheerleader. Così non va. Ci siamo. Ora sì che si parla. Vai, squadra, vai, squadra. Adoro. Ehi Lori, non andartene senza di me. Dovrò finire la missione dopo la scuola. Manca qualcosa. Ci siamo. Ora è perfetto. Tutta la classe adora Lori. Volete sentire una barzelletta? Un giocatore di occhi incontra un quarterback. E uno dice all'altro. Oh oh. Megan? Ciao a tutti. Sono in ritardo? Perché le luci sono così forti qui dentro? È pazzesco. Non hai dimenticato niente? Cosa intendi? Oh no. Che imbarazzo. Per favore non ditelo a nessuno. Avete visto? L'educazione è a luce. L'ignoranza è oscurità. Se è così, Megan è chiaramente nel lato oscuro. Pro All Stars non aspetterà. Non può perdere tempo prezioso. Deve giocare. Ma l'insegnante non la pensa così. Cosa pensi di fare, signorina? Un altro round, signorada. Assolutamente no. Allora dov'ero? Così non va. Sembra che qualcuno non sia abituato a mollare. Vieni dalla mamma. Megan, cosa pensi di fare? Non penso proprio. Resterà qui per ora. Non è giusto. Ehi ragazzi. Lori è qui. Vi sono mancata? Sono Lori. Uno, due, tre. Ballo e canto solo per te. Venite alla partita questo venerdì. Delfini contro tigri. Forza, delfini. Vincete per noi. Fantastico. Oh, cosa state facendo? Vado a dirlo al preside. Ma, signorada, non puoi farlo davanti ai miei follower. Stavo solo provando la parte. Quando ero un ragazzino volevo fare l'attore. Ciao a tutti. Ragazzi, questa è la nostra occasione. Solo un minuto. Prendiamo ciò che è mio. Sì. Oh, cosa sto facendo? Quei cuori sono per me. Oh, che bello. Finalmente è l'ora dell'intervallo. Il che significa che è ora di rilassarsi un po'. Benvenuti nel mondo di Minecraft. Bene, zombie. Fatevi sotto. Prendi questo scheletro. C'è Lori. Sta partecipando a un talent show. Uno, due, tre. Io sono Lori e tifo per te. Incredibile. Questa ragazza merita il punteggio più alto. One, two, three. Noi vinceremo. Sì. Megan? Cosa ci fai qui? Wow. Sembra che qualcuno sia finito sul palco. I giudici non sono entusiasti. Ti mostrerò il vero Kung Fu. È così imbarazzante. Pensavi di poter scappare da me? Assolutamente no. Vieni qui. Qualcuno. La fermi. Ah ah. Eccoti qua. Mostro malvagio. Caglia. Dobbiamo scappare. Ah ah ah. Fate qualcosa per quel robot assassino. Beh. Devo farlo. Ah ah. Il nemico è stato neutralizzato. E il primo posto va a Lori. Non posso crederci. Ho vinto. Congratulazioni per la tua meritata vittoria. Attenzione. Sta tornando. Mostri. Non riuscirete a scappare. Le amiche hanno il loro saluto. Ciao Kylie. Ciao Lori. E le amiche gamer non fanno eccezione. Ciao Megan. Come va? Bene. Come stai? E fuoco. Andiamo a giocare. Allenarsi con gli amici è più divertente. Brandon è così bello. Oh sì. Hai già deciso cosa indosserai al ballo di fine anno. E alle amiche gamer piace mangiare snack. Non si apre. Fammi provare. Oh. Non funziona. Quante volte te l'ho detto. Non strapparmi le patatine dalle mani. Oh oh. Hanno ordinato i fuochi d'artificio? Sembra che qualcuno abbia finito gli snack. Bene. Eccoci qui. Forza Del. Forza Fini. Delfini. Anche il morale delle amiche gamer è alto. Megan il tuo controller. Stai lontano da me. O ti mordo. Si sta facendo caldo qui dentro. Il tuo controller è in fiamme. Mi dispiace. Ma non mi hai lasciato scelta. Perché lo hai fatto? Ti ho salvata dalle fiamme. Lori è segretamente innamorata del capitano della squadra. Jason. Il mio cuore si scioglie come un gelato al sole. Ciao. Stavi cercando me? Ma il cuore della gamer non è facile da conquistare. Devi essere una leggenda dei videogiochi. Ci incontreremo sicuramente un giorno. Hai già giocato a Cyberpunk? Lei non ha alcuna possibilità. Ma è davvero carino. E anche un gamer appassionato. Oh, sei tu, secchione? Che diavolo è? Avanti. Stai lì. Dobbiamo farlo per forza. Sono in diretta dalla scena. Oh, ciao. Stiamo assistendo alla storia. Ehi tu! Lascialo andare. Aiutami! Cosa hai detto? Dillo di nuovo. Non ho paura di te. Oh, oh. Sembra che qualcuno non sia abbastanza forte per questa sfida. Ah, ho dimenticato di spegnere il ferro. Andiamocene. Eh, ragazzi. Tiratemi giù da qui. Studiare è fantastico. Ma dobbiamo trasmettere in streaming. Ciao a tutti. Oggi vi mostrerò la mia fantastica collezione di poster dei videogiochi. Il mio primo e il mio preferito è questo poster di Fortnite. Il pubblico non sembra supportare l'entusiasmo di Megan. Ehi, Lucy! C'è una diretta di Meganzilla! Ma non è tutto. Aspettate un minuto. Ho sete. Ma quando l'ho finita? Scusatemi. Torno subito. Ehi, eccomi. Lori sembra avere in mente qualcosa. Sarà divertente. Ciao a tutti. Sono Lori. E adoro fare la cheerleader. Vi mostrerò anche come fare un trucco fantastico. Guarda, questo è più interessante. Aspettate un attimo. Non avete ancora visto il mio profumo preferito. Ed ecco il tocco finale. Bene, siamo pronti per allenarci. Oh, lei è così cool. Ciao, ragazzi. Stiamo guardando un video di bellezza. Assolutamente sì. Questa influencer merita molti like. Wow, per me. E questi baci d'aria sono per voi, miei cupcake. Aspetta un attimo. Cosa sta succedendo? Vi amo, vi amo, vi amo. Spostati. Questa è la mia diretta. Ragazzi, tranquilli. È solo un malinteso. Non è vero. Smettila subito. Ops, questa non ce l'aspettavamo. Ma il pubblico sembra amare quello che sta succedendo. Hai rovinato i miei capelli. E tu stavi per bagnare il mio joystick. E comunque, questo è il mio show. Cosa? Vi piace la nostra collaborazione? In tal caso, continuiamo con lo streaming. Mangiare sano è la chiave per avere una bella figura. Ed è d'obbligo per il capitano delle cheerleader. Lori mangia solo cibo sano. Delizioso. Fantastico. Sei un modello per noi. Le cose non sono così rose nell'arsenale della gamer. Devo mangiare subito qualcosa. Ehi, Megan, perché sei triste? Mangia un po' di vitamine. Oh, grazie. Vediamo. Poca energia. Scusa, ho bisogno di qualcosa di più nutriente. Come un hamburger. È terribile. È pieno di calorie. Non ci credo. Sento una scarica di energia. Sta funzionando. Caia! Non mi sento bene. Penso che sia meglio andare. Sono un ninja della frutta. Bam! Ora niente può fermarmi. Megan ha organizzato una festa per gamer. Cominciamo con un cubo di Rubik. Che ne dici se pensiamo a qualcos'altro? Andiamo, sarà divertente. Ok. Un torneo di scacchi. Scaccomatto? Sì, ho vinto di nuovo. Wow, wow, wow. Vacci piano, Megan. Ok, va bene. Sei la migliore. Sei felice? Oh no, Jenga, no. Con calma. Ce la farò. Beh, cosa vi avevo detto? Sì, sì. Ops, gioco finito. Lo sapevate che sono la migliore a suonare l'ukulele? Sole, mare, vento in faccia. Oh yeah. Ragazzi, seguitemi. Lori, sei la nostra salvatrice. Ora divertiamoci un po'. Sì, questa sì che è una festa. E la mia canzone? Aspetta, questo significa che possa giocare in pace. Sembra che l'equilibrio perfetto sia stato trovato. Avere una cheerleader come fidanzata è il sogno di ogni ragazzo. Wow, eccola. Guardala. È impeccabile. Aiuto. Oh, mi avete salvata, ragazzi. Cosa farei senza di voi? Ma è facile perdere l'attenzione dei ragazzi. Soprattutto quando una PlayStation nuova di zecca attira la loro attenzione. Devo andare di là. Oh, che male. Stai bene. Andiamo a giocare. Oh, i ragazzi. Non prestargli attenzione. Gli darò una lezione. Dai, delfini, pipiurrà. La nostra squadra vincerà. Siete il nostro orgoglio. Noi facciamo il tifo. Forza, delfini. Battete il nemico. Lori, svegliati. Poverina, ha preso una bella botta. Non è stata colpa nostra. Oh no, la mia gamba. Resisti. Sono con te. Dammi la mano. Ma devo esibirmi. Ora non è un buon momento. Sì, devi prenderti una pausa dall'allenamento. Assolutamente no. Non piangere, Lori. Ecco, guarda cos'ho. Portali via. Beh, ok. Sarà divertente. Andiamo. Non pensarci nemmeno. Non puoi battermi. Perché non ho mai giocato prima? Adesso mi capisci, vero? Allora. 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 Allora.